Di nuovo assieme, parferme, Matteo hai subito delle grosse novità perché mentre la Formula 1 dovremmo aspettare ancora una settimana prima di vedere alcune carte svelate, nel mondo delle moto invece c'è già qualcosa di nuovo proprio oggi. Sì, stamattina è stato presentato il Repsol Honda Team e su Facebook, sulla pagina ufficiale del Team, ci sono le immagini che ora vi faccio vedere, una livrea nuova, molto particolare per i dettagli della moto però credo che Marco sia molto più preparato di me, insomma qua vediamo. No sai perché lo dice? Perché fra breve poi dovrà parlare anche del rally di Monte Carlo per cui si tiene in caldo. Devo restare in forma. No, no, ma è giusto ma è giusto anche che inizi ad occuparti di moto mondiale, insomma l'ho dovuto fare io. Repsol è il team che forse parte con i favori del pronostico perché è sicuramente Pedrosa, reduce da una seconda parte di stagione esaltante, la migliore da quando ha debutato in MotoGP e poi questo giovane nel quale tutti crediamo che è Marques che forse diventerà l'astro nascente delle due ruote. Beh, la Honda si è presentata con un bel olé secondo me perché è veramente la squadra più latina del mondiale, due piloti spagnoli e un nuovo team principal, ovvero quello che una volta si chiamava team manager che Livio Suppo, che è italiano. Quindi, beh, bella promozione per Livio e bell'impegno per la Honda che ha fatto una moto bellissima. La livrea nuova è veramente azzeccata, fa vedere bene la linea di una delle moto più belle che ci siano in giro oggi nel mondo delle corse e anche una delle moto che vanno più forte. Pedrosa per me è il favorito numero uno perché viene da sette vittorie in stagione 2012, ha vinto per la quarta volta, si rischia di vincere per la quarta volta il titolo di vice campione del mondo andando a insediare il record di Randy Mamola e quindi deve vincere. Lui davanti ha solo un'idea, vincere il mondiale. Ha la maturità per poter reggere tutta una stagione? Cioè qualcosa è cambiato nel 2012 anche a livello di testa in Pedrosa? Secondo me è cambiato moltissimo, è maturato perché anche se è iniziato a correre presto da bambino perché a 15 anni era già nel giro che conta, però secondo me è maturato nell'ultime due stagioni, è cambiato, è diventato più aggressivo ed è soprattutto un interprete del nuovo motociclismo e assieme chiaramente al campione del mondo Orgel Lorenzo, non ce lo dimentichiamo mai perché è il numero uno e non a caso, sono gli interpreti del nuovo motociclismo, il nuovo motociclismo è si va forte subito, lo ha inventato Casey Stoner ed è il nuovo modo di correre, una volta si aspettavano le reazioni delle gomme, si impostava una tattica di gara, Stoner ha insegnato al mondo che si pesta subito durissimo fin dalla partenza, fin dal primo turno di prove, gli unici due che sono riusciti a stargli al passo sono stati Danny Pedrosa e Orgel Lorenzo, Marquez è uno che è cresciuto con questa mistica, quindi non hai in mente nessun'altra strategia, ci sarà veramente da divertirsi, a questo punto anticipo la tua domanda e quegli altri cosa faranno? Quegli altri si devono svegliare in una maniera incredibile, se no le stelle stanno a guardare, se no stanno veramente, fanno gli spettatori, brilleranno solo di luce riflessa altrui. Lo hanno capito e da quello che ho visto lo ha capito bene anche Rossi che ce l'ha come punto fermo, qui bisogna partire subito e legnare fin dal primo minuto. Stessa cosa anche in Formula 1 perché al di là del fatto che sia un anno di transizione ci sono molti piloti che hanno delle scommesse in ballo, pensiamo a Lewis Hamilton che approda alla Mercedes, Paolo, c'è comunque tutto un progetto relativo alla Formula 1 per tantissime squadre che ancora non si è concluso nonostante manchi una settimana alla presentazione di alcune squadre. Andiamo subito a vedere quelle che sono, non tanto le novità, ma quali sono le varie caselle ancora da aprire praticamente tutte. Inizierà la Lotus, poi subito dopo la McLaren, poi il primo febbraio avremo la Ferrari, poi avremo la Sauber di Nico Hulkenberg che è un pochettino uno dei piloti che ho nel cuore. Ma direi che ci sono stati nelle ultime settimane dei cambiamenti, cioè Toto Wolff se ne è andato via dalla Williams, è arrivato alla Mercedes. Alla McLaren sembra possano richiedere Paddy Lowe che è uno degli uomini forti del team di Hawking che potrebbe entrare quasi direttamente in concorrenza con Ross Brown e Aldo Costa che è responsabile della prossima macchina. Che cosa sta succedendo? Ma sì, diciamo che anche se molto in ritardo rispetto al mercato piloti, il mercato tecnici in questo momento è assolutamente in fermento. appunto la figura di Paddy Lowe è quella di maggiore prestigio e potrebbe appunto apportare alla corte di Ross Brown, preso da una McLaren dove lui rappresenta il Deus Ex Machina praticamente degli ultimi progetti. C'è da dire che Paddy Lowe piaceva comunque anche molto alla Ferrari, però penso che lui approderebbe molto più volentieri ad un team che abbia sede in Inghilterra per questioni personali come molti d'altronde tecnici inglesi tendono a fare. E sicuramente c'è da dire che abbiamo una McLaren che si presenterà comunque già molto competitiva perché aveva trovato il bando della tassa nelle ultimissime gare e questo monoposto potrebbe già partire molto forte. Però, c'è sempre un però, non sono tantissime le novità tecniche relative al 2013, però ce ne sono alcune che vanno messe in evidenza e che potrebbero portare qualche progettista a scoprire come sempre tra le pieghe dei regolamenti la soluzione che poi determinerà la vittoria. Quello che è un po' accaduto con la Red Bull nelle ultime stagioni e soprattutto con quel genio di Adrian Newey. Spiegami allora che cosa, anzi spiegaci, che cosa cambia in questa Formula 1 2013 attraverso le tue tavole. Sì, allora, guarda, avevo preparato uno schema, una tavola in cui sono riassunte le poche ma importanti cambiamenti che ci saranno quest'anno a livello tecnico. Io partirei dalla parte anteriore della monoposto dove quello che cambia sono soprattutto i test di flessibilità dell'ala che l'anno scorso hanno creato grossa polemica soprattutto per quanto riguardava la Red Bull sono diventati più severi, il peso applicato è sempre 100 kg ma la flessione massima diminuisce da 2 cm a uno solo quindi è molto stringente, cambia. Poi il peso totale della monoposto aumenta di 2 kg. L'anno scorso era 640, il totale è 642. Perché? Perché un set di gomme quest'anno peserà 2 kg in più rispetto a quello dell'anno scorso rispettivamente 200 g a gomma sull'anteriore e 700 g a gomma sul posteriore. C'è sempre da giocare un 7 kg di zavorra tra la ripartizione dei pesi all'anteriore 292 kg all'anteriore e 343 kg al posteriore. Poi abbiamo dei crash test ma soprattutto dei test di carico laterali a livello del cockpit più severi questo per rendere ancora più sicure le monoposto e poi un cambiamento molto importante riguarda il famigerato DRS cioè quest'ala mobile posteriore che sarà vietato il sistema di doppio meccanismo ovvero che possa attivare un ulteriore sistema tramite la sua apertura quindi una limitazione globale del suo utilizzo anche nelle prove, anche nelle qualifiche sarà concesso solo nei settori dove si opera normalmente il DRS in gara e non per tutto il giro come l'anno scorso. Quindi svantaggio in questo caso per la Red Bull che l'anno scorso utilizzava molto bene questo sistema soprattutto in qualifica. Però già l'anno scorso la Red Bull si diceva sarebbe stata svantaggiata per gli scarichi soffianti o meno alla fine hanno risolto e hanno trovato l'escamotage anche loro in quale settore i progettisti andranno ad arginare lo spirito regolamentare? Sempre quello? Io credo grossomodo che la zona non cambierà più di tanto sempre l'area posteriore è quella dove è più possibile trovare qualche vantaggio sia per il soffiaggio degli scarichi sia comunque per creare deportanza a carico aerodinamico. Per il resto appunto le modifiche imposte dal regolamento non le voglio definire cosmetiche ma sono all'insegna di una stabilità regolamentare e credo che comunque i progettisti cercheranno di andare oltre già introducendo delle modifiche che poi saranno valide per il 2014. Pochissime invece sono le caselle relative ai piloti ancora in disponibilità, ovvero i piloti che stanno cercando la squadra ci sono molti più pretendenti di squadra, sono tutte squadre di secondo piano forse l'unica è la Forza India che sta cercando la seconda guida anche se le voci assicurano che Jules Bianchi sia sempre più vicino e porterebbe in dota in prospettiva 2014 quindi a partire dal 2014 i motori Ferrari. Sì, questa è la voce. Mi sembra assurdo però che questo Bianchi venga spinto così tanto dalla Ferrari perché se i risultati delle categorie inferiori non mentono Bianchi non ha mai vinto nulla di importante dall'epoca della Formula 3. Sì, diciamo che se lo andiamo... Secondo me è un po' troppo sopravvalutato, scusami ma c'è di meglio in giro. Io non mi permetto di giudicarlo così approfonditamente anche se parlando di altri piloti parlerei di Valsecchi molto volentieri perché obiettivamente Davide, vincitore della GP2, avrebbe le carte più in regola. Guarda, i casi di Filippi, di Valsecchi sono degli scandali dei quali ognuno deve parlare. Adesso prendiamoci un attimo di pausa dal mondo della Formula 1 perché Matteo si è disputata la prima gara del Mondiale Rally. Uno splendido Rally Monte Carlo che ha destato molta curiosità, qualche polemica, tanta neve, tanto traffico. Allora andiamo... Facciamo un'analisi. Facciamo un'analisi. Andiamo a vedere i vari protagonisti. Bravo. Dai, può partire il nostro primo protagonista. Passano gli anni, però resta sempre il numero uno. Questa volta forse è faticato di più? Ma guarda, io credo in realtà di no. Nel senso che ha lasciato la prima prova speciale a Auger che ha debuttato alla grande con l'Apolo vincendo subito la prima prova speciale però poi è salito in cattedra ha fatto vedere a tutti come si guida come si scelgono le gomme in una gara che conosce di fatto come le proprie tasche però secondo me l'ho scritto su Twitter la mattina appena sveglio e lette le classifiche secondo me resta. Cioè quest'anno ha detto che farà solo quattro gare casualmente la seconda che farà sarà la prossima e quindi secondo me l'ha fatto un po' come pretattica diciamo se vede Ma noi lo vogliamo vedere anche in azione in velocità con la nuova McLaren GT3 perché Sebastian Loeb sta mettendo in piedi un programma molto avvincente. Lui passerà sicuramente anche alla pista però sai quel 10 tondo quel numero tondo il 10 che non ha mai raggiunto nessuno secondo me può fargli piacere. Andiamo a vedere subito un altro grande protagonista della rally di Monte Carlo Allora qui bisogna subito dire portava Sebastien Nogier al debutto la vettura più attesa la Volkswagen Polo la quale è andata forte molto forte più forte forse di quanto la gente si attendesse eppure c'è qualcosa che non ha funzionato alla perfezione Diciamo che andava tutto bene nel senso arrivare secondi assoluti a un minuto e 39 da Loeb in casa sua ci stava infatti Nogier ha detto che non era mai stato così felice di arrivare secondo quindi comunque sia era un risultato che forse neanche loro si aspettavano io direi un debutto per i tedeschi che sono arrivati in grandissimo stile motorhome grande comunicazione hanno un motorhome con tutte le facce dei piloti stampati sopra cioè proprio si cerca di portare il mondiale rally ai fasti di un tempo andiamo subito a vedere un altro protagonista dispiace ma anche cambiando squadra non cambia il pilota l'Atvala è sempre un pilota poco affidabile in termini di prestazione assoluta si ritira sempre il risultato non cambia ha distrutto un'altra scocca dopo quella che aveva distrutto durante i test precampionato oltretutto nell'ultima prova nell'ultima prova speciale che è stata disputata una prova speciale che è stata insidiosissima che ha ammietuto vittime illustri lo stesso l'Atvala ma poi vedremo più avanti anche altri però insomma ci sta nei rally sbagliare ci sta nell'automobilismo sbagliare ci sta bisogna vedere se la Volkswagen gli darà la possibilità di sbagliare ancora una volta adesso breve pausa poi ritorniamo con i rally la Formula 1 in moto mondiale e tante novità che c'è che c'è l'automobilismo Grazie per la visione!